Capitano, dai! Proviamo! Dai, a palla! Vai! Vai! Su, su, su! Su! Siamo in pressione! Su, su, su! Dani, andiamo! Su, su, su! 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 Gioca! Gioca! Largo, ragazzi! il campo è grande, è libero, va bene, no, gioca, gioca, su, su, dai, dai, vado, lenti, 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 l 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Interchannel e poi scegli.